Intorno al mondo della motivazione c'è un concetto molto simpatico che gira sempre, c'è un concetto che molte persone esprimono ed è quello del lavorare duro, è quello del dormire poco, è quello di fare più lavoro degli altri, è quello di mettersi sempre di impegno, di superarsi ed è vero, è verissimo che dobbiamo fare tutte queste cose, è verissimo che un sogno richiede più lavoro degli altri perché se vogliamo arrivare dove gli altri non arrivano dobbiamo fare quello che gli altri non fanno. Quindi è vero che ci sono mattine dove dobbiamo svegliarci presto, ci sono sere dove faremo tardi per lavorare al nostro sogno, tutto questo è vero. Tutto questo lavoro duro, tutto questo lavoro che mettiamo avrà i suoi risultati, ma c'è una cosa importante da capire, tutto quello che facciamo deve renderci felici. Personalmente scelgo di svegliarmi presto per montare un video perché non ho altro tempo e perché mi rende felice, perché sono contento, sono aggazato quando mi alzo alle 5 di mattina mentre gli altri dormono e sto lavorando al mio sogno. Questo è quello che mi rende felice, quando scelgo di non uscire la sera per poter lavorare ad un progetto lo faccio perché so che sto migliorando e so che mi sta portando dove voglio andare. Non lo faccio con la tristezza di doverlo fare, non sento questo peso nel farlo e questa è una cosa che dobbiamo capire, dobbiamo cercare di trovare la nostra passione e la nostra passione significa che quando facciamo questo lavoro extra siamo contenti di farlo e non ci fa sentire male. Se quello che stai facendo non ti rende felice, se quello che stai facendo non ti dà i brividi sulla pelle, non ti fa sentire bene ma ti sta stressando, ti sta portando ad un livello che non riesci a sopportare, allora non stai facendo la cosa giusta. È vero che dobbiamo andare oltre, è vero che ci sono momenti difficili, è vero che ci sono momenti in cui siamo giù, ma nel quadro generale tutto quello che facciamo a lungo termine deve renderci felici, deve farci stare bene, deve farci essere positivi, quindi è inutile lavorare duro su qualcosa che non ci piace. Se stai facendo qualcosa che non ti sta rendendo felice, che non ti fa sentire bene farlo, che ti sta facendo perdere il sonno, ti sta facendo essere più stressato, allora non stai facendo la cosa giusta. Devi capire che tutto quello che fai devi farlo per il tuo bene, per la tua felicità, per sentirti bene. Quindi è importante capire che il lavoro duro è una parte dell'equazione molto importante per arrivare al successo, ma deve anche renderci felici, il percorso, il viaggio deve renderci felici, dobbiamo essere contenti su quello che stiamo facendo, perché se lo stiamo facendo solo per arrivare alla fine significa che non vogliamo veramente quello che c'è alla fine, dobbiamo farci piacere il processo e per farci piacere il processo queste ore in più non devono pesarci, queste ore in più devono essere qualcosa che ci piace fare, quindi mi raccomando cerca di capire se quello che stai facendo ti rende felice, se ti sta stressando, se non ti sta rendendo felice, forse quello che stai facendo non è quello che dovresti fare. Dobbiamo cominciare a capirci, dobbiamo cominciare a vederci, a capire quello che ci piace, quello che possiamo fare, unire le due cose e vedere dove possiamo arrivare con quello. Quindi mi raccomando cerca di capire quello che vuoi fare, quello che ti piace e capisci che ogni cosa che fai deve renderti felice, deve renderti più felice di quanto tu non sia non facendolo.